Un bel bottino è stato conquistato da due sorelle gemelle di Salerno. Grande festa ai soliti ignoti il ritorno e questa volta con due ragazze provenienti dalla fiabesca cornice di Salerno. Eleonora e Iole. Questo il nome delle sorelle gemelle che sono giunte in trasmissione con tanta energia e ne sono uscite a testa alta, accaparrandosi un bel bottino. Tra un ignoto misterioso e un altro, non sono mancati dei retroscena riguardanti le ragazze. Soliti ignoti il ritorno puntata 24 gennaio. Tra i mestieri da associare agli otto ignoti della puntata del 24 gennaio c'era chi vende rossetti. Chi dirige una scuola per tecnici luci. Chi fa la maschera al teatro. Chi produce un formaggio chiamato, schiena d'asino. Chi ha una gioielleria. Chi stabilizza girassoli. Chi va sul monociclo e, infine, chi offre l'opportunità di dormire in una moderna e romantica casa galleggiante. Iole e Eleonora quante identità saranno riuscite ad associare, correttamente, ai rispettivi mestieri? Prima di partire con i giochi, Amadeus ha indagato a fondo sulle due gemelle salernitane. E Eleonora di mestiere insegna danza. Mentre Iole lavora presso un villaggio fitness. Montepremi vinto ai soliti ignoti. Un ricco bottino va a Salerno. La partenza delle due concorrenti è stata buona. Ma subito dopo aver risolto il primo ignoto, hanno iniziato ad incontrare una serie di alti e bassi. Alla fine, però, sono riuscite ad aggiustare il tiro. Al round finale Eleonora e Iole ci sono arrivate con un montepremi di 121.000 euro. Una cifra davvero alta che, dopo alcune riduzioni, è scesa a 48.400 euro in gettoni d'oro. Le due sorelle hanno impiegato parecchio tempo a decidere quale ignoto avesse una parentela con la ragazza presente al centro dello studio. Ad un tratto Amadeus ci ha scherzato sopra. Dicendo che nel frattempo la parente misteriosa aveva compiuto gli anni. Quando alla fine si sono decise. Il verdetto finale ha sancito la loro vittoria. La gioia si è manifestata sul volto delle due gemelle di Salerno. Le quali si sono abbracciate fortemente mentre il conduttore le ha complimentate. Grazie a tutti.